Scusa, hostis di destra. Guarda un attimo il capitano. Mr. White, she's okay right here? Okay, can you fly now? Può volare, prego. And Mr. White. One more. Allora, one second. Foto 10 all'unanimità. Un attimino, andiamo a vedere. Dove sono i giudici? Mi sono perso i giudici. I giudici tutti dieci. Allora.